32 milioni per 161 teatri siciliani. Le risorse saranno erogate dal Dipartimento regionale dei beni culturali dell'identità siciliana, diretto da Sergio Alessandro che ha già predisposto la relativa graduatoria. I fondi stanziati per interventi di restauro, ripristino, ristrutturazione, messa a norma innovazione tecnologica, consentiranno la modernizzazione di strutture esistenti e l'apertura sia di nuovi spazi che di sale chiuse da tempo al pubblico. Il mio governo, sottolinea il presidente Musumeci, sta dando vita sul territorio a un investimento in cultura senza precedenti. Ricordiamoci che i teatri siciliani pubblici e privati costituiscono una mappa identitaria dell'isola e sono depositari della memoria e del carattere del territorio. Inoltre questo piano per i teatri serve a dare energia e attenzione al ruolo fondamentale che riveste il capitale umano e intellettuale dei luoghi della cultura. Registi, attori, musicisti, scrittori, scenografi, costumisti. Una forza lavoro e una memoria collettiva di tecniche e saperi troppo spesso sacrificati da una disattenzione o una scarsa considerazione che fa gocita figure che invece meritano di trovare in Sicilia opportunità di lavoro e realizzazione professionale. Per questo ho voluto imprimere una svolta per affermare il principio che con la cultura si mangia e che può generare sviluppo. L'idea del governo regionale è quella di mettere in circolo una risorsa importante per rivitalizzare la crescita del territorio e creare opportunità di lavoro per aziende, tecnici, fornitori che saranno impegnati in questi 161 cantieri e la cultura che si apriranno con i lavori di ammodernamento delle strutture teatrali. Nel rispetto delle proporzioni previste dal bando agli enti pubblici è stato concesso un contributo pari quasi all'80 per cento della somma valutata come ammissibile. Per i soggetti privati un finanziamento pari a circa il 62 per cento. Gli enti beneficiari sono comuni, enti pubblici, istituti scolastici, parrocchia, antinoprofit, fondazioni, associazioni e imprese private impegnate nel campo teatrale. In base alle istanze pervenute sono state finanziate su un importo complessivo di 32,3 milioni di euro 161 strutture ripartite tra le province siciliane.